Non potevo non fare un video per le mie secche di merda, a che ore sono? Quattro di me. Guardate che bello. Quattro di merda. Indovinate dove mi va tutta questa bella cosa? Nel culo dei mula. Culo dei mula. Sto in un orgasmo prepotente. Ti amo. Comunque secche di merda, con la mia bella pancia bella piena, me ne vado a... Uh, mi si vede la tetta. Sto dicendo. Ah, sì, dicevo che sto a scherzare. Non v'incazzare, mannaccia dei turchi. Dico solo, non fate aiuto, fate l'amore e... Si chiama Chiara. Adesso ti dico il nome. Aspetta, voglio far vedere... Mamma mia che faccia. Stiamo andando... Alla sala Truco. Truco, Truco. Beh, stiamo andando molto sobra in un programma della mattina. Una mattina. Ragazzi, sono venuto a trovare il mio amico Giacomo e Antonello. Guardate qua. Le tette, le tette. Un abitato. No, non è un abitato. No, non è un abitato. C'è un abitato. No, non è un abitato. E se tu cuerpo me llama, sto tranquillo, non è un abitato. sopporti, bacino!